Buonasera, buonasera, benvenuti a Top Secret, oggi parliamo di trasporti internazionali. L'azienda si chiama Vector SPA Società Benefit di Castellanza, provincia di Varese e sono con noi il dottor Andrea Buttà, amministratore delegato, benvenuti a tutti, e la dottoressa Camilla Buttà. E qui comincia la grossa difficoltà per me perché la sustain, io lo so come si dice, ma lo dica lei, così per... Sustainability, diversity, equity and inclusion and communication. Management Manager, un tema praticamente. Siamo ancora in Italia, lo dico perché ci sta guardando, perché oggi bisogna usare per forza l'inglese, manager comunque della sostenibilità. Sostenibilità, diversità, equità, inclusione e comunicazione. Benissimo, e questo l'abbiamo fatto, benvenuti, perché invece è un discorso molto molto importante. Normalmente noi cominciamo facendo un po' di storia dell'azienda. Vuole raccontarcela? Sì, guardi, in poche parole. Noi nasciamo nel 78, quindi iniziamo a essere una bella aziendina di mezza età. Abbiamo fatto i primi dieci anni di sviluppo, soprattutto focalizzati sul territorio del Varesotto. All'epoca c'erano cinque o sei soci che erano molto attivi in azienda, anche a livello operativo. Nostro padre arriva all'inizio degli anni 90 e porta così un po' una visione internazionale. Lui aveva esperienze pregresse in multinazionali, competenze sui mercati asiatici e queste le ha portate all'interno dell'azienda. Negli anni 90 si è sviluppato grazie, secondo noi, anche a una bellissima intuizione. All'epoca le aziende andavano soprattutto in Giappone, New York, Hong Kong e in pochi guardavano altri mercati che poi sono diventati mercati importanti. E invece Vector, mio padre, nostro padre e Vector, sono andati subito a guardare al mercato cinese, al mercato sudcoreano, al mercato indiano, al mercato brasiliano, già all'inizio degli anni 90. Questo ha permesso di creare delle basi molto solide per poi quello che è stato lo sviluppo successivo. Noi siamo entrati nel 2007 e come seconda generazione siamo subito occupati di business development, quindi apertura a nuovi mercati e consolidamento dei nostri mercati tradizionali. E questo ci ha portato nella situazione attuale in cui, in termini di volumi movimentati per il trasporto aereo, siamo tra le prime dieci aziende italiane. Quindi, sì, quest'anno in realtà siamo noni, secondo le statistiche ufficiali, quindi siamo contenti. Ma la cosa bella è che siamo la prima realtà ancora molto legata al territorio. Non siamo una multinazionale, tutti gli altri sono multinazionali. Quindi, insomma, anche in un periodo, tra l'altro, di mercato dove ci sono un sacco di acquisizioni, quindi tante piccole e medie imprese del nostro settore stanno un po' sparendo, ci teniamo un po' a difendere il fatto che siamo un'azienda indipendente italiana e radicata sul territorio. E, parallelamente a ciò, abbiamo una divisione di trasporto marittimo che cuba per più del 40% il business aziendale che fa dei lavori assolutamente straordinari. Ecco, col business cosa fate esattamente? Mi l'ha già un po' accennato. Trasporto internazionale di merci, aerei e marittimi, extra Europa. Quindi noi aiutiamo tutte quelle aziende bellissime che fanno Made in Italy a portare i loro prodotti in giro per il mondo. Quindi lavoriamo da, non so, le imprese del fashion al food and beverage, a chi fa grandi macchinari, facciamo progetti. Siamo molto, molto forti nel farmaceutico, nell'alimentare, operiamo bene nel settore della difesa. Quindi aiutiamo tutte quelle aziende che, così, esportano i loro prodotti e grazie a Dio l'Italia è molto forte sull'export, le aiutiamo a portarli in ogni angolo del mondo. Ma questa cosa del Made in Italy è di un'importanza fondamentale. Forse noi non ce ne rendiamo abbastanza conto di quanto sia importante, di quanto pesi nel mondo il Made in Italy. Sì, noi abbiamo una decina di persone che viaggiano in giro per il mondo, dalla Mongolia, alla Bolivia, all'India, ovunque nel mondo, e ci rendiamo conto di quanto i nostri prodotti siano apprezzati. Ecco, cercare di supportare le aziende. Tra l'altro, ahimè, l'ambito dei trasporti internazionali, insomma, è un ambito in cui non si investe a livello paese tantissimo. Ecco, noi già paghiamo un gap infrastrutturale perché le efficienze che hanno gli aeroporti del nord Europa, i porti del nord Europa, non si possono neanche lontanamente paragonare ai problemi che abbiamo noi in Italia. Eppure l'export è uno dei grandissimi motori della nostra economia. Ecco, cercare di essere il supporto delle aziende per portare le loro prodotti in giro per il mondo, secondo noi è un pezzo bellissimo della nostra attività. E veniamo a Camilla. Io ogni volta che dico Camilla mi commuovo perché ho una figlia che si chiama Camilla. Quindi, senta, voi siete una società Benefit. Allora, noi abbiamo fatto un passaggio a Società Benefit che è stato poi ufficializzato con il dicembre 2021. Le Società Benefit sono una bellissima realtà italiana e esiste come forma giuridica anche in altri paesi del mondo. Ecco, nel nostro paese è proprio una forma giuridica che le aziende possono assumere, per cui vanno a cambiare il loro oggetto sociale e vanno ad inserire all'interno di quell'elenco di attività che noi possiamo fare, quindi trasporti internazionali, aerei, marittimi, operazioni doganali, tutto quello che noi facciamo, anche attività che siano delle attività di impatto positivo sull'ambiente e sulla società. È un percorso che per noi è stato, cioè il 2021 è stato un anno, un po' di conclusione, diciamo di un lungo percorso che era iniziato già nel 2011-2012, quando abbiamo iniziato a interrogarci sull'impatto che le nostre attività avevano sul nostro territorio di competenza e sulla salute e sicurezza delle nostre persone. Il settore della logistica e trasporti è un settore dove ancora adesso ci sono persone che vengono assunte tramite cooperative con contratti inguardabili, grossi problemi di sicurezza all'interno dei magazzini, quindi per noi diventare responsabili del nostro modo di agire e di operare era fondamentale. Nel 2014 abbiamo preso due importanti certificazioni, la 14.001 sull'ambiente e la 45.001 sulla salute e sicurezza. Nel 2015 abbiamo iniziato un percorso di diversità, equità e inclusione all'interno della nostra azienda. Noi abbiamo più donne che uomini che lavorano da noi, abbiamo una totale parità di genere salariale, abbiamo molte donne a livello manageriale, la sua prima linea sono quasi tutte donne. Le saluto. Salutiamole. Tra l'altro sono nella prima linea, non perché sono donne, ma perché sono brave e vanno premiate e bisogna sostenerle. Questo mi sembra il discorso più intelligente che si possa fare su questo argomento. Beh, no, certo. Poi il talento e la persona deve essere al centro, al di là di quelle che possono essere lì, molteplici diversità di genere, di religione, di etnia, di provenienza. Certo. Quindi abbiamo fatto questo percorso, noi già dal 2018, per esempio, mappiamo le nostre emissioni. Adesso tutti a calcolare quanto emettiamo di CO2, noi lo facciamo già dal 2018, dando ai nostri clienti la possibilità, già nel 2018, di sapere effettivamente quanto le spedizioni inquinano. Ecco, allora nel 2018 non ce lo chiedeva nessuno e ci guardavano un po' come degli extraterrestri. Adesso chiaramente iniziano a chiederselo tutti. Quindi arrivare a essere una società benefit per noi nel 2021 è stata da una parte appunto la conclusione naturale di un percorso, ma anche una bellissima opportunità per iniziare a fare cose proprio più a impatto e quindi ci siamo dati questa missione che è quella di rendere il mondo dei trasporti e della logistica più sostenibile a 360 gradi e di essere un modello per le altre aziende. Lei ha detto continuità perché c'è stato proprio un passaggio generazionale nell'azienda, no? Dal papà. Sì, chiaramente, io devo dire, io sono, entrambi lo siamo, ma io mi sento estremamente fortunato perché intanto mio padre è stato, è un straordinario imprenditore che ha portato così un contributo pazzesco all'azienda per tutti gli anni dello sviluppo e continua a farlo. D'altra parte però ha avuto il coraggio, anche quando eravamo molto più giovani, di lasciarci liberi, di sperimentare, anche di prendere decisioni a volte anche sbagliate perché attraverso anche gli errori che facciamo possiamo migliorarci e quindi insomma è qualcosa di cui io sono assolutamente grato. Questo ha reso tutto il percorso di transizione generazionale un po' più semplice, ci siamo presi per mano e abbiamo lentamente noi apportato dei cambiamenti che lui ha condiviso e che sposa e quindi il passaggio generazionale è un qualcosa che è avvenuto in modo molto naturale. Tra l'altro il passaggio generazionale delle aziende non riguarda soltanto il top management, la proprietà, riguarda tutta l'organizzazione perché noi abbiamo avuto nuovi ingressi di persone molto giovani, i nostri manager che sono cresciuti con l'azienda che abbiamo formato in competenze manageriali, quindi abbiamo fatto crescere tutta l'organizzazione per essere pronta a periodi di transizione. Ecco e questo rende molto più agevole guardare al futuro e mettere a terra le nostre strategie in questo momento. Siete molti in azienda? Siamo in 140. 144 persone. Tra l'altro il passaggio generazionale è un tema italiano, un altro tema molto importante per le PMI italiane, perché il nostro padre è relativamente giovane, a 67 anni, quindi in realtà ha tutte le energie, è superattivo, però noi ne abbiamo 40 e era giusto dare, a un certo punto è anche giusto che tu dai spazio alle nuove generazioni, perché sennò poi quando ci ritroviamo a gestire a 50 anni, a 55 anni, a 60, questo è un tema molto attuale secondo me nelle PMI italiane. Io dico sempre, non bisogna però buttare l'anziano nell'umido, perché la sua esperienza può essere fondamentale paziente. Assolutamente. Lì avete avuto dei riconoscimenti, abbiamo già parlato del fatto della graduatoria, no? Sì, noi sono... Meriti, riconoscimenti. Noi diciamo che questo approccio alla sostenibilità, che per noi comunque è un approccio davvero strategico, cioè la sostenibilità viene integrata all'interno della nostra strategia di business, per noi non significa fare il compitino e mettere il fotovoltaico, ma guardare la sostenibilità di governance ambientale e sociale a 360 gradi ci ha permesso di essere riconosciuti anche da realtà come il Sole 24 Ore, sono ormai due anni che ci viene conferito il premio leader della sostenibilità, il Sustainability Award, sono 5-6 anni che la Fondazione Bellisario ci riconosce il merito di Women Value Company, quindi rientriamo tra le 100 migliori aziende italiane per l'imprimimento, per le donne, e l'anno scorso sono stata nominata pioniere italiano dall'UN Global Compact che è un patto di aziende a livello internazionale legato alle Nazioni Unite, quindi è come se fosse una sottagenzia delle Nazioni Unite, come pioniere italiano per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 proprio per la categoria piccole e medie imprese. Guardi, complimenti, bellissimo. Senti, abbiamo già finito il tempo da tempo, qualche secondo, qual è il segreto del successo dell'azienda? Io credo che il nostro segreto sia riuscire a essere in costante movimento ormai da più di 40 anni, riuscendo ad adattarci, puntando da una parte sull'alta qualità dei servizi che eroghiamo attraverso le nostre persone, che sono la nostra risorsa più grande, e attraverso la formazione che facciamo sulle nostre persone, cercando di integrare gli obiettivi aziendali appunto con un impatto un pochino più ampio, a 360 gradi. Perfetto. Grazie, grazie davvero per essere stati con noi. Sostenibility, sostenibility, giusto? Giustizia. Giustizia, bravo. Grazie davvero, grazie. Ma voi litigate mai ogni tanto? No, noi non siamo molto litigiosi, no? Però, curioso. Grazie, grazie per essere stati con noi. Grazie. Buonasera, buonasera, benvenuti a Top Secret. Questa sera siamo nel campo energetico idrogeno green, quindi un campo molto interessante. ed è con noi l'ingegnere Marco Parigi, direttore commerciale Light Industry della McPhee Energy Italia, un'azienda di un posto bellissimo che è San Mignato, in provincia di Pisa. Benvenuto a Top Secret. Salve, buonasera e grazie dell'invito. Senta, ma ci introduce subito, prima ancora di fare la storia dell'azienda, sull'H2, perché io sono stato anche rimandato in chimica modestamente, non mi sono fatto mancare niente, ci introduce nel campo dell'idrogeno verde, carbon free, che è un po' la materia di riferimento dell'azienda? Esatto, sì, diciamo che l'idrogeno non tutti sanno, ma è largamente utilizzato nel campo industriale, nel mondo, se ne consuma circa 100 milioni di tonnellate all'anno, però il 95% viene ancora prodotto da fonti fossili, tramite lo steam meter reforming, che è una soluzione tradizionale, che ha lo svantaggio di produrre CO2, il cosiddetto gas, anidride carbonica, che permette, arriva a produrre effetto serra, dannoso, come tutti sappiamo. E solo il 5% dell'idrogeno industriale viene ad oggi utilizzato e creato verde tramite processi di elettrolisi e quindi utilizzando le nostre macchine, che sono gli elettrolizzatori, ovvero in ingresso abbiamo acqua e energia elettrica e in uscita abbiamo i due gas separati, idrogeno, H2, come diceva lei, e ossigeno, che poi possono essere ricombinati insieme o utilizzare l'idrogeno direttamente nei vari processi industriali e quindi andare a decarbonizzare l'ambiente in cui viviamo perché non ho emissioni di CO2 in tutto il processo della filiera di produzione dell'idrogeno. In questo caso appunto si chiama verde perché si abbina molto facilmente all'energia rinnovabile, quindi pannelli solari e paleoliche permettono di fornire energia pulita però intermittente, quindi ha un andamento sinusoidale in base a quelle che sono le caratteristiche del posto, quindi se ho sole o se ho vento a disposizione. Ma a volte nei processi ho bisogno di fornire energia o fornire idrogeno in maniera costante e come si può fare? Lo si fa abbinandolo all'elettrolizzatore che dà appunto l'idrogeno come vettore energetico e come volano energetico per poi essere utilizzato in maniera costante per ogni singolo processo. I tempi in cui viviamo è un argomento interessantissimo questo qui, che poi approfondiremo. Vogliamo fare un po' di storia dell'azienda, della McPhee? Sì, molto volentieri. McPhee è nata nel 2008, è una multinazionale europea, ha sedi in tre paesi in Europa, la casa madre in Francia a Belford con il quarter a Parigi dove siamo quotati in borsa al CAC 40 e invece in Italia siamo a San Miniato, come diceva lei, in provincia di Pisa in Toscana dove appunto io ho l'ufficio, mentre invece in Germania siamo a Vildau alle porte di Berlino. Siamo circa 260 persone di cui 100 ingegneri dedicati alla parte R&D perché è un sistema è un settore ancora molto in disinvolvimento, l'ho detto in portoghese perché mi è venuto perché vengo da un viaggio di recente in Latino America e quindi è un settore in via di sviluppo perché diciamo vogliamo... Com'è la parola, scusi? Desinvolvimento. Io avendo abitato tanti anni a Genova, il genovese è molto simile al portoghese. Esattamente e quindi ci ha permesso di essere sempre al passo con i tempi e sviluppare la tecnologia step by step per arrivare a produrre un prodotto che è industriale e quindi riuscire a contenere il surriscaldamento globale entro un grave mezzo, entro 2050 come dice il COP21 di Parigi. 100 ingegneri, eh? Mira. Senta, il core business, cioè che cosa fate esattamente? Noi siamo progettisti e realizzatori di elettrolizzatori, cioè questi macchinari che producono idrogeno verde e permettono di varie taglie, quindi dai 3 kilowatt a impianti multimegawatt, di soddisfare le esigenze industriali al momento presenti sul mercato. Lo facciamo grazie alla nostra nuova Gigafactory a Belford che è stata inaugurata il mese scorso e praticamente successivamente con la Gigafactory saremo in grado, produttivamente parlando di essere operativi a fine 2025, quindi fornendo un gigawatt di potenza installata e dei elettrolizzatori affiancati ai 300 megawatt già realizzabili presso San Mignato, quindi l'azienda che abbiamo qui in Italia. Gigafactory realizzata grazie al fondo europeo IPCEI, del quale abbiamo ricevuto 113 milioni di euro e ha permesso appunto la realizzazione dell'azienda. Senta, ma siete in molti a fare questo lavoro? No, siamo circa una decina nel mondo, circa una decina nel mondo, siamo un settore abbastanza di nicchia e noi ci crediamo tantissimo perché diciamo che l'idrogeno essendo già allargamente utilizzato e in via di sviluppo ha bisogno sempre di trovare quella soluzione per poter essere applicato all'industria come infatti stiamo facendo noi, infatti un punto di forza dell'azienda è proprio quello di avere già 55 megawatt di impianti trassiglati, quindi progetti siglati e impianti realizzati messi a terra, quindi una soluzione concreta che possiamo dimostrare ai clienti. Senta, e oltre a questo punto di forza, altri punti di forza dell'azienda? Sì, siamo strutturati, McPhee in Italia si è sviluppata grazie all'acquisizione di un'azienda che già negli anni 80-90 produceva elettorizzatori, medio-piccoli diciamo dai 3 ai 60 kilowatt applicati nella industry, quindi industria dove si va a trattare metalli nobili, quali per esempio saldatura, saldobrasatura, quindi nel settore dei metalli preziosi e questo ha permesso di prendere il know-how già esistente e svilupparlo, quindi questo è un grande punto di forza perché così la tecnologia rimane a passo coi tempi, producendo macchinari che prima industria 4.0, adesso anche 5.0 sono disponibili sul mercato, quindi connessione remota, assistenza preventiva che è sempre un must quando si va a installare un prodotto industriale all'interno di un sistema, di un processo che non si può fermare, quindi evitare fermi in pianto è fondamentale. Certo, immagino che sia un campo in continua evoluzione, quindi parlando di innovazione? Parlando di innovazione possiamo dire benissimo che in Italia soprattutto stiamo implementando due test bench, uno per reparto R&D, l'altro per prodotti di serie che ci permette il primo di sviluppare la tecnologia e poi replicarla in prodotti che vengono testati e venduti poi ai clienti. Questo è il primo e verrà inaugurato entro fine anno. Test bench di un megawatt ciascuno, ovvero un megawatt vuol dire 200 normal metri cubi ora di idrogeno, equivalenti a 18 kg ora e quindi questo certifica che siamo i primi in Italia e veramente tra i pochi in Europa. Il secondo punto come innovazione è quello appunto di fornire un prodotto che lo sia sviluppato nel tempo e quindi è già una soluzione industriale che può essere applicata a progetti pilota anche dei grandi multinazionali come nel settore R2B8, cioè il settore cementificio per produrre ceramica, per produrre acciaio che emettono già tanta CO2 quindi però sono difficili da convertire a processi green. Piano piano con progetti pilota e progetti che dimostrano che il prodotto è industriale affidabile, sono tecnologie che nonostante siano più care rispetto alla soluzione tradizionale arriveranno a essere competitive. Senta, e progetti futuri dell'azienda tenendo conto anche del discorso fondamentale della sostenibilità? Esatto, secondo me, secondo noi McPhee è proprio sinonimo di ecosostenibilità perché produciamo un macchinario che fornisce idrogeno verde quindi senza emissioni di CO2 e quindi si vuole rispettare i protocolli e vediamo come scenario il fatto di tramite come si diceva prima impianti realizzati pilota aumentare la loro scala quindi grazie a un'economia appunto di scala si arriva a ottenere quello che è una riduzione di total cost of ownership quindi CAPEX in termini di costo di acquisizione dell'impianto e di OPEX ovvero i costi operazionali ed esercizio per essere competitivi con la soluzione tradizionale. Questo ci permette come dico sempre di sviluppare la tecnologia e 50 anni fa, questo mi sembra proprio il luogo per dirlo, avevamo una televisione se andava bene per famiglia a tubo catodico bianco e nero e 50 anni fa praticamente è ieri, oggi abbiamo addirittura televisioni in macchina touchscreen schermo piatto. Perché questo? Perché ci ha permesso la diffusione di massa, la diffusione della tecnologia di ridurre i costi e essere competitivi e quindi implementare una diffusione così vasta. Lo stesso che ha fatto l'energia rinnovabile, no? Quindi i pannelli, i paleoli che lo stesso faranno, stanno facendo gli elettorizzatori. Ma come lo vede il futuro del pianeta? Perché io sono un po' preoccupato. Lei come lo vede? C'è chi controlla? C'è chi controlla? Diciamo ci sono le nazioni che si ritrovano per stabilire quali sono i protocolli da rispettare entro determinati anni. Io sono in McFeed da 5 anni e ne sono orgoglioso perché tutte le volte accendendo la televisione sui telegiornali si leggeva sempre, si legge tuttora, il ghiaccio si scioglie, la temperatura si innalza. Però essendo favorevole alla tecnologia, però utilizzata con intelligenza, altrimenti ci distruggiamo con le nostre mani. Quindi io come lo vedo? Lo vedo che bisogna aiutare a sviluppare la tecnologia, in questo caso dell'elettrolisi, tramite incentivi, tramite l'economia di scala, in impianti sempre maggiori, così che il mondo non l'abbiamo in eredità dai nonni, ma l'abbiamo in prestito dai figli. Quindi dobbiamo restituirglielo in maniera migliore. Certo. 30 secondi per dirmi qual è il segreto del successo dell'azienda, della McFeed. Sì. Il segreto del successo, secondo noi, è proprio il fatto di puntare sull'innovazione tecnologica, quindi essere al passo con i tempi e dare una possibilità al mondo di decarbonizzarsi e quindi aumentare la vita del mondo in cui viviamo. Quindi questo è l'augurio, l'incentivo, il top secret dell'azienda. Bene. È la speranza che, insomma, aziende come la sua, insomma, possano aiutare l'ambiente a essere... perché l'uomo è l'animale, credo, più stupido esistente in natura e si riesce a rovinare l'ambiente in cui vivi. Ecco, speriamo invece che il progresso scientifico ci possa veramente dare una mano. Grazie, grazie davvero per essere stato con me. Grazie a voi, gentilissimi. Buonasera, buonasera, benvenuti a Top Secret. Parliamo delle eccellenze dell'imprenditoria italiana. Oggi siamo con l'architetto Amedeo Schiattarella, benvenuto. Fondatore, presidente della Schiattarella Associati, un'azienda... parliamo di architettura, naturalmente. Sì. Roma. Roma. Senta, vogliamo fare un po' di storia dell'azienda, a meno noi cominciamo sempre così. Beh, sì. Io mi sono laureato nel 1970 e mi sono affacciato alla professione come un professionista singolo, con tutte le ambizioni, i desideri, le voglie che si avevano naturalmente appena laureati. grande tensione, grande spirito sperimentale e questo spirito ci è rimasto sempre. Diciamo la situazione è andata devolvendo fino a che appunto nell'anno 2000 si è unito a me mio figlio, che si è lavorato anche lui in architettura, siamo diventati soci e quindi è diventata la Schiattarella Associati come studio associato. E nel 2008 si è completata la nostra trasformazione perché si è aggiunta mia figlia e quindi siamo diventati una società di ingegneria che adesso affronta il mercato internazionale. però la continuità familiare per me è sinonimo di garanzia di qualità, almeno, per l'esperienza che ho io. Beh, devo dire che sì, è una cosa straordinaria per un uomo poi, come puoi immaginare, dare anche un senso di prospettiva a quello che fa, insomma è una cosa assolutamente meravigliosa. E' molto complicato, naturalmente, è molto complicato. Ma sì, c'è, perché c'è la stessa tensione e poi forse anche perché i figli hanno subito anche l'innamoramento e la passione che c'era. Sì, tutti e due hanno seguito le orme. Sì, appunto. Senta, qual è il core business? Che cosa fate esattamente? Dunque, il nostro studio è uno studio che noi diciamo sempre che abbiamo una dimensione quasi sartoriale, nel senso che ancora siamo artigiani ma a livello molto alto e seguiamo il processo di progettazione dall'inizio alla fine. Ma siamo in grado anche, e questo per noi è anche una ragione per dare maggiore garanzia al cliente, di seguire anche le altre parti della progettazione. Cioè noi abbiamo, facciamo la general contractor e prendiamo un lavoro, cominciamo dal concept e arriviamo fino alla definizione di tutti gli elementi non solo di dettaglio architettonico ma anche la descrizione dei lavori da fare con i compu di metrici estimativi secondo le leggi locali, perché noi operiamo all'estero e quindi spesso si tratta addirittura di norme estero. Perché il mercato vostro è estero. È un mercato internazionale, sì. Oltre all'Italia. Sì, diciamo da quando è arrivato mio figlio sostanzialmente siamo diventati uno studio che ha una vocazione essenzialmente internazionale. Il mercato italiano ci interessa naturalmente, è molto prossimo, ma sul mercato straniero troviamo molte più soddisfazioni professionali e questo ci affascina molto questa esperienza. Vedo Corea del Sud, Arabia Saudita, insomma. Sì, 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 sì. Abbiamo avuto una fase intensa in Corea del Sud, molto molto interessante, con alcuni musei importanti che abbiamo realizzato. E poi in Arabia Saudita, oramai sono quasi 15 anni che lavoriamo lì, quindi in epoca, diciamo, antecedente ai grandi cambiamenti recenti del mercato, ma siamo andati lì con molta fiducia perché è un mercato che ci interessava molto, in cui c'è un grande rispetto per la professione e questo è estremamente importante. Senta, se dovesse descrivermi i punti di forza del suo studio, ormai lo chiamo io. Sì, diciamo, questo senso di sperimentazione sicuramente, perché noi non diamo mai per scontato nulla, partiamo ogni volta da zero, ricominciamo, cerchiamo anche di, appunto, comisarti, costruire la cosa sulla persona, sul nostro cliente, c'è anche una forte, come dire, costruzione di un pensiero, però, perché noi non facciamo soltanto, diciamo, progettazione dal punto di vista tecnico, ma cerchiamo di seguire delle logiche di elaborazione culturale piuttosto coerenti nel tempo, che si evolvono naturalmente a seconda delle condizioni e che però danno molta forza anche alle cose che noi facciamo. E poi l'attenzione al dettaglio, l'attenzione a questa, e credo anche la struttura che ci siamo dati, perché abbiamo anche un gruppo di persone che lavora con noi, che partecipa molto della vita, dell'attività, viene coinvolta continuamente. Noi facciamo addirittura all'interno dello studio, non formazione, ma facciamo eventi culturali che sono rivolti ai nostri collaboratori, perché vogliamo che si emozionino, che partecipino alla crescita e alla nostra maturazione intellettuale, come protagonisti e non come semplici strumenti. Questa cosa naturalmente aiuta a creare anche la squadra. Certo. Senta, parliamo anche di sostenibilità. Sì. Cioè nel mondo ogni popolo è diverso, ha caratteristiche diverse. Questo anche per quanto riguarda l'architettura. Assolutamente, questo è uno dei temi. Credo che sia tra l'altro un tema molto sottovalutato, perché chiaramente, infatti mi sorprende che la sostenibilità la interpreti in questo modo così, anche non banale, perché normalmente quando si parla di sostenibilità si parla naturalmente della distruzione che stiamo facendo sistematica nel mondo naturale. E quindi il consumo di suolo, anche l'uso indiscriminato di materiali e di prodotti inquinanti. E questo è sicuramente l'emergenza prioritaria, ne paghiamo tutti le conseguenze, anche in questi giorni con il caldo che c'è nella nostra città. Però c'è un'altra emergenza che è molto più sottile che in qualche modo sta passando senza che nessuno se ne accorga, che è in qualche modo la cancellazione della ricchezza straordinaria dell'uomo di creare culture diverse, esiti diversi al proprio modo di dire e di pensare. Che era la grande bellezza anche del mondo fino a qualche anno fa, perché noi, penso tutti noi che viaggiamo, trovavamo altri mondi, andavamo incontro ad altri mondi, ad altri modi di pensare e questa differenza era la ricchezza del futuro, tra l'altro perché era la dialettica e quindi l'arricchimento del pensiero. Invece adesso abbiamo un'omologazione della produzione, perché? Perché con la globalizzazione abbiamo grandi investitori, questi grandi investitori operano indifferentemente in tutto il mondo, usando gli stessi metodi, usando gli stessi prodotti spesso, per cui noi troviamo oggetti realizzati in tutte le parti del mondo indiscriminatamente. Questo porta l'omologazione dei paesaggi urbani, l'omologazione dei comportamenti e quindi la cancellazione delle diversità. E questo credo che sia un rischio grossissimo che non possiamo permetterci. Certo, poi vi chiederò cosa pensa dell'architettura, ci sono i palazzi, i boschi verticali, quelle cose lì, e poi ci sono le periferie che si assomigliano un po' tutte. È un po' il peggio. Sì, questa è un po' la conseguenza proprio di questa... Come dire, quando la produzione, non dico di più di architettura, ma dell'indirizia, essenzialmente corrisponde alla realizzazione di alcuni standard, che sono standard internazionali, per cui tutto viene soddisfatto se si rispetta quel certificato, quel tipo di meccanismo, eccetera. Il prodotto, una volta che uno ha identificato qual è, tende a riprodurlo meccanicamente dappertutto nello stesso modo. E quindi noi abbiamo questa sorta di meccanismo di riproduzione meccanica dell'architettura che finisce per distruggere. E poi ci sta l'altro fenomeno, che è quello speculare, che è quello dell'architettura griffata, e cioè gli architetti che tendono a essere protagonisti della scena culturale e che tendono a raccontare se stessi attraverso l'architettura. E quindi vanno a fare il monumento a se stessi, anziché fare opere che sono utili alla comunità. Io penso molto all'architettura come un'attività di servizio per la comunità. Noi dovremmo produrre benessere nella comunità. Il nostro intervento dovrebbe migliorare le cose e non fare monumenti a noi stessi. È molto interessante tutto questo. Senta, i progetti futuri? Ma intanto il futuro è nelle mani dei miei figli. Quindi il fatto che l'azienda sia un'azienda familiare con nuove generazioni, è tutto questo già in qualche modo. Futuri? Futuri noi abbiamo ancora da scoprire il mondo, perché ancora quello che è da fare è più di quello che abbiamo fatto. Abbiamo ancora molte cose in pentola in Arabia Saudita, molte cose. Adesso inauguriamo questo centro di arte digitale in Arabia Saudita. Consideriamo che fino a qualche anno fa l'arte era proibita. Oggi è il segno anche di un grande cambiamento che in qualche modo è in atto. Grande rivoluzione culturale, positiva, straordinaria. E quindi abbiamo in corso anche la conclusione di un progetto che riguarda il Palazzo del Cinema di Jedda, che è stato fatto sul nostro progetto, poi modificato nella parte conclusiva. Abbiamo iniziato il cantiere di un grande parco urbano, sarà uno dei grandi parchi della città, che ha una componente, una specie di cornice architettonica che è stata fatta da noi, mentre la parte della vegetazione è stata fatta dal gruppo Land di Milano. E poi abbiamo altri progetti. Purtroppo noi dobbiamo tenerli abbastanza riservati. È una delle condizioni del lavoro. Senta, siamo arrivati già alla fine. La ringrazio di questa lezione di architettura moderna, perché è stata veramente una lezione. E le chiedo, qual è il segreto del successo dell'azienda? Il segreto del successo? Il successo è sempre un fatto assolutamente, come dire, casuale. C'è una componente di fortuna che è sicuramente il sliding doors, che bisogna capire che è una sliding doors, bisogna saperla cogliere e poi bisogna consolidarla. Direi anche questo spirito di servizio, questa laicità con cui noi affrontiamo il nostro mestiere, la grande passione, l'emozione che riusciamo a provare ancora, a scoprire un mestiere che completamente può essere rinnovato e rinnovabile. Il fatto che costruiamo rapporti personali con le cose, con i nostri committenti, questa continuità, che è una continuità anche di un'avventura umana, comune, perché costruire una cosa per qualcuno è costruire una cosa che ci appartiene a tutte e due. Bellissimo. Senta, grazie, grazie davvero per essere stato con noi. Buonasera, buonasera, benvenuti a Top Secret. Oggi ci occupiamo di distillati e liquori. Lo facciamo con un'azienda che ha origini antichissime, storiche. Parliamo dell'antica distilleria Quaglia, di Castelnuovo, Don Bosco, in provincia di Asti. Ed è con noi il signor Carlo Quaglia, amministratore unico. È già il nome, mi va a venire in mente che sia qualcosa di familiare. In un'azienda che risale al 1890. Ci vuole raccontare questa storia bellissima di questa azienda? Buonasera, Corrado. Buonasera. L'azienda risale al 1890, il mio bisnonno, Cavadier Quaglia, nel 1903 l'ha acquisita, cedendo alcune attività che aveva a Torino e dedicandosi a questa attività fuori città che ancora oggi è rimasta la famiglia. Nasciamo come produttori di grappa, era il distillato re dell'Italia. Alcuni liquori erano già prodotti ai tempi, ma nasciamo come core business, c'era il distillato di vinacce. Oggi l'azienda ha cambiato volto, dopo un secolo di evoluzione si è adattata un po' di più a quelle che sono le esigenze del mercato e abbiamo sviluppato capacità produttive che vanno dal gin, la marida erbe e altri distillati liquori un po' più innovativi, senza però aver perso la nostra matrice che è quella del territorio, quella dell'italianità e quella della tradizionalità. Perché parliamo di un territorio benedetto dal Signore che è il Monferrato, quindi vino, tradizioni incredibili, cultura. Siamo in Piemono Monferrato, però comunque a pochi passi da Torino, un territorio ancora incontaminato, molto bosco, la vigna giusta, vini Barbera, Freisa, Malvasia, Vittini e Rossi o Abacca Bianca e abbiamo una biodiversità importantissima che ci permette di attingere direttamente sul territorio e di trovare parecchie materie prime che poi vengono usate nelle nostre produzioni. L'evoluzione negli ultimi anni ci ha portato a fare una scelta importante, una scelta aziendale determinante per la nostra qualità, cioè quella di seguire la filiera dal campo alla bottiglia. Ho quindi acquisito un'azienda agricola di 20 ettari che distribuisce produzioni di uva, di erbe aromatiche. Una parte delle erbe vengono raccolte allo stato spontaneo, quindi abbiamo una gestione delle colture interna, la trasformazione delle erbe e la successiva trasformazione in infusi, parti aromatiche, distillati, fragranti che vanno ad arricchire i nostri prodotti e li rendono veramente unici. Questo ci permette di avere un'espressività aromatica, dare un'impronta ai nostri prodotti veramente importante. Certo, ma si fanno anche le… perché io amo tutto ciò che riguarda… Noi abbiamo una cultura e quando si parla di questo tipo di aziende, quando si parla di questo tipo di prodotti, si parla anche di cultura, quando si parla di vino si parla di cultura. Le grappe si fanno anche dai grandi vini? Le grappe si fanno con le vinacce. Con le vinacce. Quindi la parte di buccia è una parte di vinacciolo, distillate, disalcolate e poi successivamente l'occorrenza invecchiata. Ogni grappa, ogni distillato ha una sua impronta. Quindi se abbiamo dei vitigni aromatici, dei vitigni diversi, andando a distillare la singola vinaccia otteniamo dei risultati differenti. Un altro fattore determinante è anche quello dell'invecchiamento. Usando legni diversi andremo a arricchire il distillato con i sentori del rovere, piuttosto che del ciliegio, del frassino o legno di pero o di melo. Quindi anche lì c'è una materia abbastanza difficile. Le tostature influiscono, le tostature del legno. Quindi lì interviene poi il mastrobottaio che ci consiglia sui contenitori da utilizzare per l'affinamento dei prodotti finiti. E questo è un'altra cosa molto importante. Che bello sentire questi termini antichi, il mastrobottaio. Perché comunque è bello. È cambiato tanto il modo di fare la grappa in realtà dal 1890, o no? Il mondo della grappa è tradizionale. Sicuramente si è aggiunta della tecnologia in aiuto alla tradizionalità. Questo ci permette di avere dei prodotti più moderni, più attuali. Quindi con delle rese aromatiche migliori. Il cuore rimane sempre lo stesso, quello di 100-200 anni fa. Non è cambiato molto. La materia prima, sempre quella, arriva da un territorio evocato. E quindi noi dobbiamo semplicemente saperla valorizzare. Affiancando delle moderne tecniche di produzione a delle tecniche antiche. Certo. Sanzialmente. Parlando del core business, di quello che fate, lei già me l'ha accennato un pochettino. Quindi diversi tipi di liquore. Diversi tipi di liquore distillati. La grappa ha un limite. È molto italiana, è consumata molto in Italia. Secondo mercato è quello tedesco e poi c'è quello svizzero. Noi volevamo affacciarci a un mercato più internazionale. Abbiamo iniziato a fare ricerca e sviluppo e a creare delle ricette su prodotti di maggior tendenza. Che non fossero il classico limoncello, anche perché il prodotto in Piemonte avrebbe poco senso. O i classici liquori già visti e rivisti. Per cui ho attivato un reparto aziendale 20 anni fa di ricerca e sviluppo. Che sostanzialmente consiste nel sottoscritto più un paio di collaboratori. Dove andiamo a seguire tutta la filiera. Come dicevo abbiamo un'azienda agricola. Quindi seguiamo la pianta in campo, la sua lavorazione, l'estrazione delle parti aromatiche della pianta. E la creazione di nuove ricette. Il reparto di ricerca e sviluppo è una fucina di nuove idee costante. Quindi sforniamo settimanalmente nuove ricette di prodotti. Le testiamo, le proviamo, le proponiamo. Abbiamo spaziato dalla classica grappa, abbiamo affiancato i jean. Questo è un momento in cui i jean sono di gran moda. C'è un grosso consumo di jean. Siamo parte del consorzio del Vermo di Torino. Siamo stati tra i soci fondatori. Siamo andati a ripescare le ricette del bisnonno, rendendole più attuali. Perché una volta si beveva, il gusto era diverso. Avevano bisogno di sostanza, di cose forti, di cose intense. Oggi siamo tutti più delicati di palato. Quindi abbiamo reinterpretato la ricetta del nonno con miscele di erbe che rendono il prodotto un po' più gentile. Abbiamo anche tutta una produzione licoristica, dai licuori di agrumi con le bucce che arrivano dal sud Italia o dalla Liguria, produzione di licuori con i fiori di sambuco piuttosto che altre botaniche. Questo ha reso la distilleria ricca di una gamma di prodotti e le ha permesso di affacciarsi a un mercato internazionale. Siamo infatti presenti in 50 paesi nel mondo, con ottimi risultati di crescita costanti. Andiamo a cercare delle nicchie qualificanti, quindi non siamo presenti in grande distribuzione. Prediligiamo più un consumo presso i cocktail bar, dove il bere miscelato oggi la fa da padrone, diventando fornitore di ingredienti per dei cocktail d'eccellenza. So che voi, adesso magari non possiamo fare proprio i nomi, ma collaborate con aziende... Collaboriamo anche come terzisti con aziende nazionali e internazionali e diamo un servizio di creazione e o imbottigliamento e confezionamento di prodotti per terzi. Senta, è il futuro? Siete in tanti in azienda? Oggi l'organico è di 30 persone circa, in crescita. La sede locale è inadeguata, siamo cresciuti negli ultimi anni molto velocemente, siamo allo stretto. Il futuro si prevede di ottima performance, di crescita. Stiamo preparando una nuova sede, sempre sul territorio, molto più all'avanguardia, e ci permetterà di triplicare i volumi prodotti e di migliorare anche la qualità. Sicuramente ci sono progetti di inserimento di distillatori in sottovuoto, adesso non mi perdono i tecnicismi, nello specifico, però sicuramente una prospettiva più carosea per tutto il gruppo, per tutta l'azienda. Parlavamo di come vivono nei vari paesi, nei diversi paesi. La grappa diceva, aveva un prodotto italiano, Svizzera, Germania. Grazie a Germania principalmente. E segue quella che è la ristorazione italiana nel mondo. Sì. E quindi c'è una presenza. Non ci sono dei volumi tali con i quali poter emergere sul mercato. Se io oggi faccio un vermo di Torino, è facile che lo usino a Londra, a Singapore, a New York, per fare un Negroni, piuttosto che fare un altro drink. Eh, certo. Per un buon bitter, un liquore amaricato. Quindi il bartender oggi cerca dei frutti di eccellenza da usare nei suoi drink per proporre sempre qualcosa di nuovo. Cioè noi siamo lì a... E voi ci siete da... A dargli gli strumenti per poter farlo. Dal 1890. Senta, quale può essere... Io vabbè, un po' me lo immagino. Quale può essere il segreto dell'azienda, di un'azienda così di tradizione? Il segreto è stato quello di dire, esco dagli schemi, esco da queste dinamiche scontate che il mercato proponeva, a cui costringeva, e torno indietro. Sono tornato indietro di 70 anni con tutta la parte di ingredientistica. Basta aromi, basta sintesi, basta un sacco di cose che oggi creano comodità. Sì. Perché se io prendo un estratto di erbe, già fattolo verso dentro una cisterna, ho fatto anche un liquore, qualcuno lavora così. E mi sono cercato, io ho una preparazione a livello di perito agrario, quindi ho studiato perito agrario, sono di biologia, sono di botanica, sono di coltivazione. Sono andato a cercarmi le erbe che usavano i nonni, sono andato a cercarmi quello che il territorio poteva offrirmi. E ho iniziato a trasformare la materia prima, più nobile, quella agricola. Questo mi ha dato un plus, cioè sono io che decido quanto di quella pianta metterà nel prodotto finito, come trattare la pianta, quando raccoglierla, quale parte raccogliere e come poterla utilizzare. Questo ha elevato la qualità globale dell'azienda a un livello altissimo e c'è stato subito un riscontro da parte del mercato, per cui ho intrapreso una strada per innovare, sono semplicemente tornato indietro. Quindi quando vi bevete un bicchierino, perché è sempre bene bere consapevolmente, eccetera, ma quando vi bevete un bicchierino, pensate quanto lavoro e quanta ricerca c'è dietro. Beh, è la qualità di un'azienda come la distilleria Quaglia, dal 1890, bello. Senta, grazie davvero per essere stato, abbiamo fatto questo viaggio meraviglioso in una zona storica, per non parlare del tartufo che c'è lì, vabbè, ma questa è un'altra cosa, faremo un'altra trasmissione sul tartufo. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie mille a lei. Grazie a lei. Grazie a lei.